Grazie Grazie di buone Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Per far nascere un fiore Se un fiore c'è dentro di te Grazie a tutti Se un bambino ti guarda negli occhi e ti prende per mano Lei conosce le strade del cuore meglio di te E non hanno finito perché Non c'è odio, violenza o pazia Ma soltanto i colori di un arcobaleno Che in noi Quando ti ritrovi con le smaglie al muro E non sei sicuro di decidere Se tornare indietro o aggrapparti un filo L'ultimo che ancora tu puoi perdere C'è una speranza C'è una speranza forse ti è rimasta Usa la tua testa Puoi farcela Prova un po' da amare col tuo amore Anche quel muro cadrà Bisogna crederci adesso Bisogna crederci adesso Innamorarsi più spesso E lasciare che il cuore ti guidi in un mondo migliore Bisogna crederci adesso Fare l'amore più spesso Per far nascere un fiore Se un fiore c'è dentro di te Bisogna crederci adesso Bisogna crederci adesso Bisogna farlo più spesso E domani sarà migliore anche per te Anche per te Anche per te Veramente credetemi È un'emozione Perché mi sembra di essere tornati indietro Di tanti 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 anni Veramente Allora stasera come ha detto il mio amico Davide Ci siamo ritrovati Noi pensate È la prima serata È la prima serata stasera che faremo insieme E che ci porterà sempre Insieme penso Perché sono fantastici ragazzi Intanto direi di fargli un bel applauso Questi Grazie Allora è nata questa cosa Vi rubo veramente pochissimi minuti Per ciò che voi volete ballare E noi faremo le vostre richieste Se avete qualcosa da richiedere Io cercherò di esaudirvi Come sempre Volevo dirvi solamente questo Questo è un gruppo nato Indubbiamente con l'idea di Davide Trotta In compagnia mia Indubbiamente l'abbiamo messo insieme Il gruppo di Mauro Levrini Quindi che vi accompagnerà Per tutto il tempo che noi riusciremo Indubbiamente spero all'infinito Di stare insieme a questi fantastici ragazzi Allora noi ci scusiamo anticipatamente Se faremo qualche sbaglio Perché è la prima serata Che noi sogniamo insieme stasera Voi sapete che io sono stato via Per qualche mese Per quattro mesi circa Quindi una cosa che voglio dire Che noi stiamo portando avanti Una cosa molto ma molto importante Che è la musica dal vivo Quindi se sbagliamo Portate pazienza Va bene? Ok? Signori Andiamo subito con i successi Dai! Quanti amori!